Dopo che il Tar Campania ha respinto il ricorso contro il Comune di Agropoli in merito alla realizzazione di un'isola ecologica in località Malagenia, ad intervenire sulla questione è stato il consigliere di minoranza Agostino Abate, che l'ha definita come una scellerata sentenza. Infatti scrive così in un post, il risultato della scellerata sentenza del Tar, che ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai proprietari dei terreni confinanti e quello di complicità della politica nepotistica di questa amministrazione comunale, fa sapere il consigliere attraverso un post, con l'acquisizione di quel suolo, spaccato in due da un'importante condotta idrica ad alta pressione e con il progetto di isola ecologica in cui verrà trasferita tutta la consistenza dei rifiuti soliti urbani della città. L'amministrazione comunale di Agropoli e i suoi complici hanno di fatto raggiunto un sol scopo, e cioè elargire al proprietario una somma considerevole e sproporzionata ed impoverire miserabilmente le legittime speranze dei proprietari confinanti che, grazie ai sudori dei loro genitori, detenevano un terreno di discreto valore economico, sottolinea Abate. Infatti non ci sono altre motivazioni valide e ragionevoli per portare in quel sito e in quella località la monezza raccolta da Agropoli e poi ritornare indietro per trasferirla alla discarica autorizzata. Sia l'amministrazione comunale con i suoi complici e se il Tar hanno coscientemente disatteso tutte le prescrizioni del PUC che pochi mesi prima il comune di Agropoli aveva frettolosamente adottato. Siamo curiosi di raccogliere le conclusioni del provvedimento edilizio e di legge necessario per l'esecuzione e che riguardano un sito che, insieme a quelli di tanti altri comuni proprietari, ricade in un comparto che, dal mese di aprile 2017, richiede la preventiva redazione di un PUA, piano urbanistico attuativo, che notoriamente può essere redatto solo dopo la definitiva approvazione del PUC. Nel frattempo verrà interessato il Consiglio di Stato e non solo, conclude così il consigliere del comune di Agropoli, Agostino Abbate.